... ... ... ... ... ... ... ... ... Come va il braccio? Per ora resisto. Ok. Prendete tutto ciò che trovate. Non possiamo. Sono oggetti del vecchio mondo. Ma che... Ci servono provviste. Finché siamo imbuscati qui, il doppio senso era voluto. Mai viste le Iene ammazzarsi tra loro? Serapiti. Che diavolo hai fatto? Ho arrasato la testa. Risparmiami i dettagli. Preferisco non sapere. ... 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